buongiorno ragazzi una splendida sorpresa dentro i tunnel un buona delle sabbie ricatese a mio parere è una femmina molto innocua l'ho presa perché si deve spostare da zona del di lavoro l'agricola se non la lasciamo in pace infatti adesso sto facendo il video per mostrarvela e ora la vado a rilasciare in un posto più tranquillo per lei ecco qua è molto innocuo come esemplare ok alla prossima ciao ciao